Puoi uccidere quest'uomo? Sì. Quanto vuoi? 70 milioni. D'accordo. Lo chiamano Jackal. Non siamo mai nemmeno riusciti a provare se esiste. Agisce in segreto. Nessuno del KGB l'ha mai visto. Nell'ombra. Sfugge anche alla CIA. In silenzio. Sappiamo almeno se ha mai agito negli Stati Uniti. E il suo bersaglio. Gli interessa solo il denaro. Ha una sola via d'uscita. Declam ha qui in un tiratore scelto dell'Ira. Lui potrebbe identificarlo. Che cosa vuole per aiutarci? Andare via da qui. Tornare in Irlanda. Essere libero. Jackal ha preso un volo per Washington 11 giorni fa. Adesso avete un nome. È già qualcosa. La polizia chiede il vostro aiuto. Conosce ogni vostra mossa. È un codice d'accesso dell'FBI. Può sparare 100 proiettili prima ancora che il primo arrivi al bersaglio. Vattene ora. Ti rispediranno in carcere. In mezzo a tanta gente. Si ricorda. Bruce Willis. Richard Gere. Sidney Poitier. Il nostro sogno è inserito. Il te è possibile? Il nostro sogno è un figlio. Grazie a tutti